Ciao, mi chiamo Andrea Caporizzi, sono un attore, ho 21 anni, ho iniziato il mio percorso di formazione presso l'Accademia di Vonda Braccio Studio, al quale sono stato per tre anni, e successivamente ho fatto un altro corso accademico in Accademia Artisti. Poi adesso sto svolgendo un'altra Masterclass sempre con Accademia Artisti, altre Masterclass in generale per tenermi impegnato, e non mi fermerò. Grazie e buona giornata.